Bolzano in bici edizione 2015 domenica 13 settembre, ventunesimo appuntamento della manifestazione che attira ogni anno migliaia di amanti delle due ruote e non solo. L'anno scorso sono stati in oltre 6.000 al via. Come da tradizione la partenza è prevista alle 9.30 in 5 diversi punti della città di Bolzano. Si prosegue fino alle 16.00. I punti di riferimento sono Piazza Matteotti, il parco di Via Genova, il parco di Piazza della Vittoria, il parco Mignone e Casa Agnello nel quartiere di Rencio. Questa manifestazione Bolzano in bici è una manifestazione già molto sperimentata, però è un ringraziamento ai nostri cittadini che tutto l'anno utilizzano la bici per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, alla scuola. Comunque è una forma di ringraziamento. Bolzano in bici edizione 2015 vede un prologo nella serata di sabato ai prati del Talvera con musica e stand gastronomici. Confermato anche quest'anno il paglio dei quartieri, un appuntamento che ogni anno riscuote sempre più successo. I cinque quartieri della città competono infatti per conquistare l'ambito trofeo che verrà consegnato a Rione con il più alto numero di partecipanti. Impossibile elencare tutti i motivi per i quali partecipare a Bolzano in bici. È importante perché è una bella cosa, perché ci si diverte, perché c'è la città libera dalle auto, si può andare come si vuole sulla strada, sul marciapiede, perché si incontrano tante persone, perché è un bel modo per stare insieme. Come nelle passate edizioni, Bolzano in bici vede una serie di iniziative collaterali che propongono offerte di svago, divertimento e a carattere culturale, capaci di spaziare a 360 gradi. Un esempio è la collaborazione con i musei cittadini. Il Museo della Scuola Rencio, il percorso espositivo sotto il Monumento La Vittoria e il Museo delle Semi Rurali avranno orario continuato con la possibilità di visite guidate. Fondamentale anche quest'anno la collaborazione con la WISP. I cittadini di Bolzano sono già molto bravi nell'uso della bici, ma c'è sempre ancora una fascia di persone che forse potrebbe rinunciare alla macchina e dare a lavoro, per esempio, con la bici. E vogliamo incentivare e vogliamo far vedere che si può anche divertirsi. E facciamo vedere anche i diversi tipi di bici, perché abbiamo la bici elettrica, la bici tradizionale, la bici mountain bike, per proprio incentivare anche lo sport, anche lo sfogo con la bici. E questo forse vale la pena. Bolzano in bici è una manifestazione non competitiva aperta a tutti gratuita. Chi completa il percorso timbrando la propria tessera nei cinque punti di controllo riceverà la maglietta di Bolzano in bici ed un tagliando che permetterà di partecipare all'estrazione dei premi. La città viene chiusa al traffico dalle 9.30 alle 16.30. Bolzano in bici è sostenuta dal gruppo Santini, Raiffeisen Casse e Vodafone. Tutte le informazioni sono sul sito all'indirizzo www.comune.bolzano.it.